Non tutti potevano scrivere la macchina, bisognava essere capaci perché ci vuole una certa pressione dei tasti per scrivere e quindi se non sono capace ho il rischio di mi danni le dita qui in mezzo e di scrivere sbagliato. Volevo chiedere a loro quanti di voi hanno mai avuto a casa una macchina da scrivere, l'hanno già, non la conoscete? Sì, sì. È una cosa nuova. È la prima cosa nuova della pre-storia. È la prima cosa nuova della pre-storia. La mia era un po' diversa. Sì, anche la mia era diversa. La mia era più piccola.